Testa Ciccio, togli il bavaglio, togli il bavaglio! Adesso togliamo il bavaglio, ma muta, devi stare in un bavaglio! Ciccio, stai zitta, ora ti do il telefono e tu fai il numero di tuo figlio e me lo passi In fretta, in fretta, con whatsapp, bravo, con whatsapp Mi spalma, ragazzi squilla, squilla Pronto? Cosa zacca è me? Zucca è me Zucca è me, c'è Mark Me lo può passare, per favore? Grazie Mark, hai sentito quella era tua madre? Se vuoi rivedere il suo profilo intatto questa sera è meglio che ci porti 3 milioni di visualizzazioni 5 milioni di visualizzazioni 10 milioni di visualizzazioni sotto il nostro video questa sera Ci vediamo a mezzanotte al solito post e niente scherzi Perché ti guarderemo dalla porta account Mark, guarda che te la facciamo assente e la rimandiamo a casa dei pacchetti Amazon Hai capito? Capitazzi Capitazzi che la rimandiamo ai piccoli pacchetti Amazon A cosa stai pensando Mark? A cosa stai pensando Mark? A che sto pensando Mark? Tancale un'orecchio Tancale un'orecchio Merorme Aspetta un momento Mark Questo è il nostro ultimo invito 10 milioni di visualizzazioni per casa surace Stasera a mezzanotte Partecipa Partecipa Si No O forse Accettato 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 Anche Chieorus E la Chiesa Karina Belkets Belkets